Il 26 marzo a Palazzo Lascaris sono stati ricevuti i corsissi del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro CIFOIL. L'incontro è previsto dal rapporto di collaborazione tra il Consiglio regionale, che si avvale del supporto del Centro Estero per l'Internazionalizzazione, e il CIFOIL. Consente a chi è ospitato al Touring Center per un periodo formativo di avere notizie e ragguagli sulla realtà istituzionale, economica, culturale e storica del Piemonte.